Il tutto esaurito non c'è stato, complice anche il maltempo che è imperversato sul comprensorio soprattutto venerdì e sabato santo, ma può andare in archivio con un bilancio decisamente lussinghiero e il ponte di Pasqua sul fronte dei flussi turistici che hanno visto in particolare domenica e soprattutto i lunedì di Pasquetta l'intero territorio invasso da turisti provenienti in particolare dall'Umbria ma anche da altre parti d'Italia. A Gubbio anche i numeri confortano l'impressione che l'affollamento di parcheggi e le vie del centro transitate da migliaia di forestieri aveva suscitato. La rete museale della città, a fa sapere in una nota l'amministrazione comunale, ha registrato circa 3.000 biglietti staccati per il circuito comprendente il Museo Civico di Palazzo dei Consoli e la Chiesa di San Francesco della Pace detta dei muratori di cui circa 2.500 per il solo museo civico. In tanti ad ammirare le opere della Pinacoteca ma anche le tavoli ogubine o la mostra delle torture nella Sala dell'Arengo o anche semplicemente lo spettacolo panoramico dai merli, da dove peraltro è tornato a risuonare il campanone nel giorno di Pasqua. Un dato interessante emerge dal servizio di accoglienza, biglietterie e bookshop del Museo Civico con la propensione o intenzione alla visita di più spazi museali o espositivi, apprezzando e soffruendo quindi della pluralità di opportunità che la città ha offerto in questo periodo. Grande successo ha registrato anche la mostra Gubbio Brick Art al Centro Servizi Santo Spirito dedicata ai 60 anni della Lego che ha attirato dal Giovedì Santo, giorno della sua apertura al pubblico, oltre 3.200 presenze. La rassegna promossa dalle associazioni La Medusa, Host e Diridium in occasione del 60esimo anniversario dalla fondazione della celebre azienda danese Lego ha attirato numerosi ogubini e tantissimi turisti. Numerose le proposte collaterali come laboratori di cake design, robotica e laboratori di costruzione guidata ispirati alle favole. Decine e decine di bambini iscritti ai laboratori ed una lunga fila di persone in attesa di poter entrare in giorno di Pasquetta, massimo picco di presenza in mostra. L'attenzione verso il segmento famiglie con bambini, parte importante della strategia di prodotto della città e in questo periodo ha ottenuto un evidente riconoscimento, confermato anche dai buoni risultati della mostra Extinction prima e dopo la scomparsa dei dinosauri al complesso di San Benedetto, che ha visto oltre 1.500 ingressi. Quasi 900 sono state le richieste di assistenza e informazioni registrate presso l'Ufficio Turistico di Via della Repubblica, non quantificate ma decisamente superiori al migliaio solo nella giornata di ieri le presenze sulla funivia Colle Letto, che ha visto una fila ininterrotta al mattino e al pomeriggio di coloro che volevano raggiungere la Basilica, magari tornando a piedi lungo gli stradoni del Monte Ingino. Dal venerdì a lunedì anche l'area di sosta camper nella zona dello stadio è stata sempre piena, con la necessità da parte dell'amministrazione di riservare ai camperisti altre aree e parcheggio. Diverse strutture ricettive hanno registrato buoni risultati, anche se l'andamento meteo ha sicuramente influenzato le scelte della clientela italiana, portando a prenotazioni last minute e soggiorni più brevi di quelli attesi. La speranza è che ora il meteo sia più clemente nei ponti del 25 aprile e del primo maggio, in attesa del periodo dei Ceri.